Volevo rispondere a tutti i tifosetti che attaccano l'Inter ma non hanno il coraggio di dire e di fare complimenti a questo ciclo che dal 2021 al 2024 vittorioso dell'Inter perché ha vinto due scudetti e coppe e supercoppe e ha fatto anche in Champions un bel percorso ma nessuno dice che bravi invece noi dobbiamo sempre dire bravi ai milanisti per il ciclo di Ancelotti noi dobbiamo dire bravi al ciclo di Conte e Allegri alla Juve ma nessuno mai che viene a dire bravi, bella Inter, gioca bene, bel ciclo no perché si attaccano sempre a risultati, a arbitri, varie cose, non funziona così perché io non ho mai sentito un tifoso dell'Inter dire il ciclo di Ancelotti ah no hanno rubato, ah no di qua, no, abbiamo sempre detto squadra fortissima Juventus di Allegri e Conte, squadra fortissima invece no, noi vinciamo e voi dovete cacarucazzo dovete dire la VAR, dovete dire Marotta League dovete anche essere onesti e dire il ciclo Inter 2021-2024 tanta roba, complimenti a posta di criticare sempre ciao a io ciao